Salve, sono Michele Nicolai e oggi approfondiamo l'ultima parte del modulo che approfondisce la disposizione per l'attuazione di interventi FSE 21-27 e in particolare la sezione relativa all'ammissibilità dei costi. Oggi completando appunto il nostro percorso andremo a approfondire quelle che sono le tipologie di controlli che sono previste dalle disposizioni nel rispetto della normativa vigente e andremo a analizzare quello che è il meccanismo sanzionatorio che è previsto dal vostro programma. In particolare vedremo come il vostro programma prevede in caso di non corretta realizzazione degli interventi e di non rispetto degli adempimenti previsti delle revoche o delle sanzioni che sono ovviamente commisurate alla tipologia di criticità che viene riscoltata. Andando innanzitutto a approfondire quello che è le operazioni di controllo, chi di voi ha seguito anche il precedente approfondimento, ha visto come periodicamente ogni tre mesi siete tenuti, i beneficiari sono tenuti a presentare delle dichiarazioni di spesa che danno conto appunto della spesa che è stata sostenuta nel trimestre di riferimento. Quali sono i controlli che vengono fatti rispetto alle dichiarazioni di spesa presentate su operazioni finanziate a costi reali o a forfetti? Innanzitutto viene verificata la completezza dei dati inseriti nella dichiarazione di spesa e la conformità dei contenuti di alcuni campi informativi dei documenti contabili, quindi in particolare quelli che sono le informazioni chiave rispetto alla reddicontazione del costo. Viene fatto un controllo della corrispondenza, cioè che la somma degli importi dei documenti contabili inseriti nell'elenco corrisponda al totale dichiarato che è stato inserito nella dichiarazione trimestrale. Viene fatta una verifica di conformità dell'avanzamento finanziario con riferimento al preventivo approvato rispetto al totale del finanziamento risposto. È chiaro che le trimestrali possono consumare parte del preventivo ma devono rispettare gli importi massimi previsti nelle voci di costo che sono state approvate col progetto. Viene verificata che la spesa è stata sostenuta nel periodo consentito dal progetto e dal programma, quindi la temporalità effettivamente della spesa. Verifica la presenza di un titolo giustificativo valido a supporto della spesa che è stata dichiarata. Si verifica la tipologia di spesa che deve essere ricompresa ovviamente tra le spese ammissibili previste per la tipologia di operazione, quindi vi ricordo sempre che chiaramente una spesa può essere ammissibile per un progetto ma se non pertinente può non essere ammissibile a un altro progetto. La verifica dell'ammissibilità della spesa in base alla norma provinciale, nazionale e comunitaria. Abbiamo, chi ha seguito la prima parte di questo modulo, approfondito alcune voci di costo e poi diciamo per un approfondimento più completo rimando appunto alla normativa di riferimento. Infine verrà verificata che la spesa che è rendicontata è stata effettivamente quietanzata, quindi che il beneficiario abbia effettivamente pagato la spesa. Su tutti questi elementi, diciamo se tutti questi elementi danno esito positivo, la dichiarazione trimestrale viene validata e a quel punto diciamo è possibile poi emettere la richiesta corrispettiva di pagamento. Nel caso invece di dichiarazioni trimestrali con operazioni finanziate a costi reali, non abbiamo tutta la complicazione di andare a verificare la spesa sostenuta, perché col costo standard ovviamente non ci interessa sapere la spesa sostenuta, ma verrà verificata la completezza dei dati inseriti nella dichiarazione presentata e la conformità delle condizioni di realizzazione del progetto, quindi se l'attività che è stata effettivamente realizzata è in linea rispetto a quella che era prevista dal progetto. Vengono fatti anche controlli sulla dichiarazione, sul rendiconto finale presentato. In questo caso i controlli, parlando di operazioni finanziate a costi reali, sono molto simili a quelli che abbiamo visto sul controllo della trimestrale, quindi è fatta sempre la completezza, la corrispondenza degli importi, la conformità tra preventivo e consuntivo, è chiaro che a questo punto è la chiusura del progetto, che quindi dovrà essere allineato il preventivo al consuntivo o dovranno essere state richieste e autorizzate delle variazioni al preventivo laddove necessario, la temporalità della spesa, ricordo che il progetto prevede sempre un periodo di tempo dentro il quale l'attività deve essere realizzata e quindi la spesa deve essere sostenuta entro quel periodo di tempo, la giustificazione, la corretta tipologia della spesa e ammissibilità della spesa, l'acquitanza, la corretta realizzazione dell'attività progettuale, vengono in questo caso verificati anche la corretta e completa compilazione dei registri delle attività, tutta la documentazione che è prevista a seconda della tipologia di intervento e che sarà poi specificata nell'avviso, il rispetto degli adempimenti previsti dalle esposizioni e il controllo di eventuali standard attuativi minimi previsti dalle disposizioni. Vi evidenzio che su alcune tipologie di intervento è previsto che ci siano degli standard minimi che devono essere raggiunti di livello professionale dei docenti o altri standard e questi vengono verificati in fase di verifica del rendiconto finale. Nel caso di rendiconto sempre di costi reali e a forfè viene verificato anche l'avanzamento e lo svolgimento dell'attività rispetto alle attività previste, non vengono verificate le spese sostenute dal beneficiario, bensì il progresso fisico dell'operazione, vengono verificati la correttezza dei registri, la correttezza e completezza della documentazione che è stata inviata sugli obbligo e sulle documentazioni previste dalle esposizioni, il rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'avviso e il rispetto degli standard attuativi previsti. È chiaro che in questo caso stiamo parlando di operazioni finanziate a costo semplificato e quindi di conseguenza la verifica che viene fatta non è sull'espesa ma è sull'attività effettivamente realizzata. Le modalità di controllo di primo livello riguardano anche una verifica sui requisiti di partecipazione, una verifica sugli stati di avanzamento finanziario presentati dal beneficiario, quindi come abbiamo detto sia in itine che ex post, e poi vi ricordo che il sistema dei controlli del programma prevede anche la possibilità, e anzi diciamo è un obbligo imposto dei regolamenti, di fare dei controlli in loco sia sull'esistenza delle operazioni, ossia i tipici controlli di controlli ispettivi nei quali vada a verificare che effettivamente l'operazione si sta realizzando conformemente al calendario. E poi dei controlli invece contabili potendo, soprattutto per le operazioni finanziate a costo reale o a tasso forfettario, potendo verificare gli originali dei documenti di spesa e l'originale della contabilità andare a verificare appunto la corrispondenza tra i documenti giustificativi caricati al sistema e quelli originali e la corretta contabilizzazione delle spese rispetto al sistema di contabilità utilizzata. I controlli in loco sono svolti a campione, quindi diciamo non tutte le operazioni sono soggette al controllo. Quando c'è un controllo l'ufficio FSE invia un verbale provvisorio al beneficiario, il beneficiario ha 15 giorni per inviare eventuali contodiduzioni o integrare documentazione richiesta, a conclusione l'ufficio manda un verbale definitivo, dopo il verbale definitivo il beneficiario può richiedere la richiesta di rimborso. Quindi questo è l'iter che è previsto sia nel caso di dichiarazione trimestrale che nel caso di dichiarazione semestrale. Ora diciamo sintetizzato molto brevemente quello che è la procedura di controllo e poi per un esame più dettagliato vi invito anche a guardare quelle che sono le checklist che vengono utilizzate per effettuare i controlli, volevo illustrarvi quelle che sono le principali casistiche di revoca del finanziamento e le sanzioni che sono disciplinate dalle vostre disposizioni. Innanzitutto è prevista la revoca del progetto se c'è la revoca dell'accreditamento, laddove ovviamente l'accreditamento costituiva un requisito per effettuare l'attività come quello nel caso della formazione, nel caso di rifiuto del trattamento dei dati quando comporta l'impedimento di adempiere ai controlli, è chiaro, l'istituto da parte del beneficiario, questo comporta la revoca del finanziamento, mancata consegna della convenzione firmata entro in termini stabiliti, quindi attenzione la convenzione va restituita all'ufficio nel rispetto della tempistica stabilita e indicata, nelle disposizioni, il ritardo dei termini la revoca. Il DURC in regolare in fase di stipulo della convenzione di finanziamento, quindi se c'è il DURC in regolare verrà revocato e non si potrà procedere al convenzionamento. Mancato rispetto del termine dell'avvio dell'intervento, fondamentale rispettare quelli che sono gli eventuali termini che sono indicati dal dispositivo attuativo. Stessa cosa per quanto riguarda il non rispetto dei termini per la conclusione dell'intervento, laddove il beneficiario dovesse apportare delle modifiche sostanziali al progetto senza che queste siano autorizzate da parte dell'ufficio FSE, rifiuto di dare accesso alle strutture in caso di verifica in loto e mancata collaborazione dell'attività di controllo, mancata esibizione della documentazione relativa all'attività oggetto di finanziamento, mancata regolarizzazione della posizione assicurativa a favore dei partecipanti entro il termine stabilito dalle disposizioni e superamento della soglia minima di partecipanti per l'intervento laddove è prevista una soglia minima di partecipanti. Ancora è prevista una revoca se il rendiconto è presentato oltre 90 giorni dal termine previsto per la consegna del rendiconto. C'è una regola, una revoca anche nel caso di non rispetto del tasso di realizzazione di un intervento. Se il tasso di realizzazione è inferiore al 40%, quindi si realizza meno del 40% dell'intervento, viene revocato l'intervento perché viene valutato come un intervento che non è stato compiuto nella sua interezza. Viene misurato anche il tasso di efficienza progettuale inferiore al 40%, quindi se viceversa c'è un risparmio maggiore al 40% delle risorse disponibili. Mancata costituzione del partenariato o della rete di progetto laddove questa era prevista dal progetto. Mancato il raggiungimento della soglia di partecipanti minimi dove è prevista e dove non si è stata autorizzata una deroga. Il venir meno di requisiti soggettivi del beneficiario rispetto alla propria affidabilità economica e finanziaria. Gravi violazioni delle disposizioni inerenti all'ammissibilità della spesa che vengono rilevate durante i controlli di primo livello e ugualmente gravi irregolarità o non conformità che riguardano la realizzazione delle attività progettuali che sono accertate in fase di controllo. In tutte queste situazioni è prevista la revoca del finanziamento. Le disposizioni prevedono anche delle sanzioni parziali rispetto a non piena conformità di realizzazione dell'intervento. In particolare è previsto il taglio di parte del finanziamento che consiste in una sottrazione e quindi nel taglio di spese o ore ritenute non ammissibili. È chiaro che negli interventi a costi standard il taglio di ore interviene poi il taglio di spese. I tagli sono applicati all'importo rendicontato e concorrono a determinare l'importo ammesso. I tagli sono cumulativi, quindi possono essere fatti più tagli a valere su un progetto. Nel caso di costi standard, le attività non ammesse sono collegate ad ore. Se le attività non ammesse sono correlate ad ore che concorrono alla determinazione del parametro di durata pertinente e rapportato al valore del costo standard medesimo, verrà fatto un taglio delle ore per la determinazione della durata ammessa rapportato al valore del costo standard. Viceversa, se le attività non ammesse sono collegate ad ore che concorrono alla determinazione del parametro di durata pertinente, in questo caso la decurtazione delle spese riguarda l'importo ammesso e interessa, viene fatto sulla base degli importi rinvenibili in alta documentazione da quale si può evincere appunto quella che è l'attività che non è stata effettivamente realizzata. Oltre al taglio è possibile prevedere la decurtazione che è da intendersi come riduzione percentuale o nella sottrazione di un importo finanziario in esito all'accertamento di determinate non conformità rispetto agli adempimenti previsti dalle disposizioni o dagli avvisi pubblici di riferimento. Anche in questo caso le decurtazioni sono cumulative e possono essere calcolate sull'importo pubblico ammesso e da esso detratte quando l'importo è detratto dall'importo ammesso nel limite massimale di quest'ultimo. E possono essere calcolate sulle quote fisse di gestione tutoraggio approvate o sull'importo dei costi di gestione tutoraggio ammesso e quindi detratte dall'importo quando sono calcolate invece senza un limite massimo. Quindi vedremo adesso degli esempi di sanzioni che sono previste che prevedono delle decurtazioni che vanno ad agire appunto su in particolare sulle voci di gestione tutoraggio ed ala. Chiaramente l'importo cumulativo delle sanzioni può essere superiore alle importe delle quote di gestione tutoraggio e degli importi di tutoraggio ammessi. Come tipologie di sanzioni abbiamo la riparametrazzazione che si applica nel caso di costi reali e forfee con una riduzione percentuale dell'importo pubblico approvato in esito all'accertamento del mancato raggiungimento dei standard previsti, una riparametrazione che agisce nei progetti con gestione finanziaria a costi reali e forfee applicate all'importo approvato che concorrono alla determinazione dell'importo erogabile e quando invece vengono applicate più riparametrazioni si applica soltanto quella più gravosa in termini finanziari. Nel caso di costi standard si parla invece di riduzione, viene fatta una riduzione percentuale del costo standard pertinente in esito all'accertamento del mancato raggiungimento degli standard previsti, è chiaro che qui va operato sul costo standard non essendo costo reali, le riduzioni agiscono solo nei progetti con gestione finanziaria a costi standard e si applicano all'importo ammesso e concordano alla determinazione dell'importo erogabile e qualora anche qui vengono applicate più riduzioni si applica quella più gravosa in termini finanziari. Vediamo quelle che sono l'elenco delle principali sanzioni previste. Mancato rispetto delle procedure di affidamento, nessun importo riconosciuto o nessun ora ammessa. Delega non conforme, c'è un taglio del 5% dell'importo ammesso o delle ore correlate. Superamento del massimale delegabile, vengono tagliate le ore o le spese delegate oltre il 30%, così come previsto dalle direttive. Mancato rispetto del principio di dotazione, B. Chi ha seguito altre parti abbiamo visto come è previsto un principio di dotazione per i fornitori e il non rispetto a questo principio di dotazione determina che la spesa delegata non conforme non viene riconosciuta, più viene fatto un divieto di fare affidamenti all'esterno, di delegare attività per un anno. Stessa cosa nel caso di costo standard non saranno ammesse le ore di attività delegata e anche qui c'è il blocco della possibilità di delegare attività per un anno. Nel caso di assicurazione, cioè di ore di formazione non coperte da polizia assicurativa, c'è una sanzione fino a 10.000 euro. Nel caso di attività svolte senza autorizzazione c'è un taglio delle spese correlate o delle ore correlate. Nel caso di mancato avvio dell'intervento entro il termine previsto c'è un taglio di 0,5% per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto alla data prevista come termine per l'avvio, fino a un massimo di quattro settimane. Dopodiché c'è la regola del finanziamento. Nel caso di mancata la chiusura di un intervento entro il termine previsto, stessa cosa, deve essere chiuso entro 60 giorni, si può arrivare a 90, c'è una decurtazione dello 0,5% per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di quattro settimane, quindi di un mese. Nel caso di assenza o tardiva conferma dell'avvio di un intervento o di conferma tardiva della chiusura di un intervento, l'importo dei costi di gestione è decurtato dello 0,5% per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti. Stessa cosa viene fatta nel caso di costo standard applicando lo 0,5% di riduzione del CUS per la quota di gestione che è indicata nell'avviso. Nel caso di superamento della soglia minima di partecipanti attivi in relazione all'intervento, in questo caso c'è una sanzione più grave che si procede alla revoca del contributo. Esistono poi tutte altre sanzioni molto dettagliate, esattamente come quelle che abbiamo visto precedentemente. Non vi sto a leggere quella che sono le sanzioni nel dettaglio, perché diciamo diventerebbe probabilmente inutile, ma vi ricordo che le direttive specificano per ciascuna di queste sanzioni che vedete qui repitolate in queste slide, che adesso scorrerò velocemente, quella che è la sanzione che viene applicata. Variazione, inserimento tardivo e regolare di un incontro al calendario, le comunicazioni tardive, la mancata comunicazione obbligatoria, la richiesta tardiva di comunicazione, la mancata notifica di ritiro e superamento del tetto massimo di assenze, la tardiva notifica del ritiro e superamento del tetto massimo di assenze, la mancata notifica di ritiro con superamento della soglia dei partecipanti attivi. Sono previste tutta una serie di sanzioni, non ve ne sto a leggere, rispetto alla documentazione e la spesa, quindi rispetto all'assenza di alcuni documenti o l'incompletezza di alcuni documenti che devono essere, che devono accompagnare la rendicontazione delle spese, e anche qui sono previste delle decurtazioni ben precise, per figure professionali coinvolte nell'attuazione dell'intervento o eronia classificazione di una figura, incompatibilità, l'utilizzo di cariche sociali senza rispettare le procedure o la presenza in aula di personale non autorizzato, la inosservanza delle modalità di individuazione dei partecipanti o l'assenza di selezione o di accertamenti ai livelli di competenza, l'assenza di documentazione probatoria di aver consegnato i materiali didattici o materiali didattici non conformi, sui partecipanti, il numero medio dei partecipanti avviati, assenza della documentazione di iscrizione, presenza in aula di partecipanti non autorizzati, variazioni autorizzate dei partner, assenza di pubblicizzazione obbligatoria o attività di pubblicizzazione informazione non conforme, non conformità dei registri, quindi regolare tenuta dei registri, rendicontazione tardiva, quindi presentazione tardiva della rendicontazione, mancata verifica dei requisiti dei partecipanti con la distinzione dei partecipanti senza requisiti che concorrono al numero minimo e quelli che non concorrono al numero minimo, ovviamente laddove i partecipanti senza requisiti concorrono al numero minimo si sarà la revoca del finanziamento, viceversa ci sarà una sanzione, violazione rispetto all'inserimento delle informazioni rispetto allo stage e rispetto alle informazioni degli standard attuativi. Come avete visto, sono numerose le sanzioni che sono previste per non conformità di realizzazione degli interventi, non vi ho riportato nella presentazione appunto il dettaglio della sanzione applicata e per quella vi invito a studiare con attenzione la valorizzazione della sanzione indicata nelle disposizioni in modo da conoscere esattamente a che cosa si va incontro laddove non si rispettano determinate regole. Bene, con questo che è l'ultima parte del modulo relativo all'approfondimento della gestione finanziaria abbiamo in qualche modo ripercorso quelli che sono i principali controlli che vengono svolti e le principali revoche e sanzioni che sono applicate al programma. Vi ringrazio per la vostra attenzione e rimando al documento delle disposizioni pubblicato dalla provincia autonoma di Bolzano per qualsiasi approfondimento e per una lettura puntuale di tutti quelli che sono gli adempimenti previsti. Grazie a tutti.